sequenza di lancio degli elpo d'avviata personale alle postazioni ripeto personale alle postazioni avvio missione trasmissione segnale di emergenza e il diver equipaggiamento in viaggio per il carico Ah! Carico! Ah! Consiglia equipaggiamento. Ricarico! Carico! Ricarico! E copertura! Ricarico! Ricarico! Consiglio di equipaggiamento! Ricarico! Guardiremos anni un certo ripensare! Io lo so! Hai tuur arti! Verdi i sencini! B ты! Ricarico. Consegna equipaggiamento. Consegna equipaggiamento. Estrazione confermata. Shuttle in arrivo tra un minuto e trenta secondi. Dispiegamento difese. Ricarico. La libertà non dorme mai! Uccidetevi tutti! Tempo. Carico. 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 Caro. Carico. 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 Muovevi presto! Grazie a tutti!